L'Arci e il WWF chiedono da tempo al Comune di Teramo l'utilizzo come sede delle rispettive associazioni di volontariato di un appartamento in città, sequestrato alla criminalità organizzata e a disposizione da anni dell'amministrazione comunale. Le due storiche associazioni si appellano alla legge antimafia che prevede proprio che questi beni siano messi a disposizione del mondo del volontariato. Un progetto che sembra però non essere ancora recepito dagli amministratori locali. Questa sede che rappresenta nel patrimonio del Comune di Teramo un passivo che non può essere dato in affitto perché la legge sull'antimafia costringe o meglio indica alle amministrazioni comunali i beni in questo caso di essere dati ad associazioni del terzo settore, abbiamo presentato un progetto sottoponendolo al Comune di Teramo e abbiamo iniziato un iter di incontri con tutta l'amministrazione, compreso il sindaco, per poter arrivare finalmente ad avere uno spazio che facesse della legalità il suo punto centrale tramite una piccola biblioteca della legalità e potesse ospitare anche, perché nel mentre il terremoto ha portato via anche la sede del WWF Teramo, i più di 2000 volumi del centro studi della Cremigna che sono un patrimonio della città stessa. Abbiamo sottoscritto al Comune di Teramo nella nostra proposta che tutte le spese di gestione di questo bene erano a carico dell'associazione, quindi ad oggi abbiamo uno spazio in questa città che deve rimanere chiuso e non capiamo e ci auguriamo che questa conferenza stampa possa portare e che il giornalismo anche in questa città possa fare quelle domande necessarie all'amministrazione che noi non siamo riusciti ad avere, cioè quelle risposte che oggi ancora mancano sul perché. Scende in campo anche il vicepresidente nazionale del WWF, Dante Caserta, che lancia un appello al sindaco di Teramo, ci di almeno una risposta. Qual è l'appello del WWF in questo caso? Sostanzialmente innanzitutto di dare una risposta perché di fatto dopo due anni stiamo ancora aspettando una risposta ufficiale da parte dell'amministrazione e dopo di creare le condizioni affinché a Teramo possa continuare a esserci una realtà che c'è da più di 40 anni e che ha svolto un'attività all'interno della nostra città e di tutta la provincia e che possa continuare a fare quelle attività di educazione ambientale, di tutela del territorio, di vigilanza ambientale che sono fondamentali. Lo vogliamo fare insieme all'amministrazione comunale, insieme a tutte le altre associazioni ci si dia però almeno una risposta.